Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale dell'Aquila Stefano Palumbo scrive al Presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso in merito alla variante alla viabilità locale della frazione di Sassa. Da anni ormai, rileva Palumbo, la vivibilità della zona attraversata dalla provinciale è drasticamente peggiorata, tanto da portare i cittadini ad organizzarsi in comitati a sollecitare le amministrazioni per trovare una soluzione. La situazione è precipitata dopo il terremoto perché sulla strada si sono trovati a transitare tanti mezzi pesanti che prima passavano altrove aggravando ulteriormente il carico di traffico generato dai flussi provenienti da Sassa dalle frazioni alte e dai comuni di Torni in Parte e Scopito. Questo ha messo in crisi la sicurezza di chi abita lungo il tracciato di via Duca degli Abruzzi. Il comune, tra l'altro, ha recentemente selezionato attraverso un bando il progetto per la realizzazione, dice ancora Palumbo, del nuovo palo scolastico che sorgerà fra le frazioni di Sassa e Paiare, proprio su questa arteria. Per questo motivo, fra il 2015 e il 2017, nell'ambito del laboratorio di architettura partecipata per la redazione del Masterplan del nuovo polo scolastico, si sono svolte nella zona Assemblea e Cittadini alla presenza anche degli amministratori del Consiglio territoriale di partecipazione dei residenti al fine di affrontare contestualmente al tema della scuola quello delle viabilità. Dagli incontri è emersa la sostanziale inefficacia della vecchia variante stradale prevista nel PRG del 1975 e la necessità di ripensarla secondo esigenze future. Quindi si è proceduto, attraverso l'ausilio di tecnici e workshop nazionali e internazionali, alla pianificazione e alla progettazione partecipata della mobilità locale, nell'ambito della quale, dice ancora Palumbo, mi sono fatto personalmente portavoce e referente della loro amministrazione comunale. L'idea di base è quella di realizzare una nuova viabilità, aderente quanto più possibile all'area già urbanizzata, prevedendo per le interpoderali esistenti un uso integrato fra i due complanari, in modo da creare, con una connessione a pettine, dei circolari a senso unico e doppio senso, soluzioni che tra l'altro è stata recepita nell'ambito del nuovo piano regolatore generale in fase di stesura. Tutte queste considerazioni avevano condotto le precedenti amministrazioni comunali e provinciali a concordare sulla necessità di rimodulare un investimento di oltre 1,5 milioni di euro previsto nell'ambito del piano degli interventi della provincia in favore di questa soluzione. Con questa lettera, dice Palumbo a Caruso, la sollecito a riprendere questo percorso già avviato.